Troppi ritardi e gli investimenti sono bloccati, sono bloccati anche il futuro e i sogni dei giovani? Sì, sono bloccati il futuro e il sogno dei giovani e la possibilità di investire sui propri territori dove ci sarebbe la possibilità di avere anche una forte ricaduta per tutto l'indotto. Quali tipi di investimenti in questo momento avete bloccati nella vostra azienda? Noi al momento, visto i ritardi, stiamo temporeggiando anche perché non sappiamo come potrà andare in futuro e quindi vorremmo prima capire come riuscire a non trovarsi in una situazione di impasse come ci trovano gli altri nostri colleghi che invece hanno incominciato da subito a fare degli investimenti e si sono trovati poi alla fine quasi bloccati totalmente senza poter poi andare avanti e poter fare gli investimenti che dovevano fare. Quali opportunità state perdendo? Quali opportunità avreste sul territorio di sviluppare? Nel nostro caso, ad esempio, la possibilità di fare degli investimenti per il recupero di una cultura come l'asparago di Albenga che rimane una delle cose più curiose e più importanti che abbiamo proprio sul territorio albanganese e che se riuscissimo ad avere un aiuto da parte della regione, da parte del PSR per poter aumentare e migliorare la produzione ma anche la trasformazione di questo potrebbe essere di grande aiuto non solo per la nostra stessa azienda ma proprio per il compressorio tutto.